Allora Cinzia partiamo subito con la prima scuola di danza. La scuola studio danza della professoressa Mariangela Bonanno, coreografia di Manuela Contarini, le allieve sono Laura Cosio, Martina Celona, Giulia Finanze, Giulia Giuffrida e Leonora Siracusa, Matteo Gentiluomo, Viviana Aenis, Chiara Arena, Giovanna Chillè e Roberta Migliorato. E il vostro applauso! 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 E il vostro applauso!